ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario caniglo informazioni commerciali titolare dei mass srl concessionario dei mass srl confezioni canigloss 200 ml canigloss 500 ml indicazioni integratore liquido con pur olio di merluzzo prodotto ricco di acidi grassi essenziali umeda 3 e 6 questi acidi non possono essere prodotti naturalmente dal corpo e quindi devono essere aggiunti alla dieta quotidiana un'adeguata assunzione di acidi grassi essenziali aiuterà a mantenere il pelo del vostro cane sano e lucente con un'ottima condizione della pelle fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato